Coraggio! Pensa anche al lato buono della cosa! Il lato buono è che restiamo in un incrocio tutta la giornata! Coraggio amico! I superiori saranno scemi ma mica pazzi! Se noi becchiamo uno spacciatore di droga, che cosa ci direbbero? Che cosa ci farebbero? Tue occhi neri! Possiamo fare squadra insieme? Dico sul serio! Ti puoi fidare di me? Beccato! Vuoi essere mio socio? Non ho avuto molte altre offerte! Che progetti hai? Faremo un arresto per conto nostro! Proviamo nel mio vecchio quartiere! E quale sarebbe? Coni Ivan! Mi sento buffo mascherato in questo modo! Volevi venire in questo quartiere mascherato da sviro? Fa finta che sia carnevale! Noi siamo mari! Quello che non so sugli stupefacenti riempirebbe una biblioteca! Non ti preoccupare! Basta che fai come a me! Ti faccio vedere io! D'accordo? È questo che mi preoccupa! Aspetta un momento! Mi sembra di conoscerlo quello! Vieni! Ma dove sei il Carlos? Eh, somiglia a Carlos! Carlos! Ehi! Come stai, bello! Come stai? Bene! Non ti ricordi di me, vero? Sono David Greenberg, amico! Abitavo qui vicino! Ma com'è possibile, Carlos? Siamo stati buttati fuori dalla stessa scuola! Ah, adesso ti ricordi di me, vero? Quando mettevamo i sassi nelle palle di neve! Questo è un amico mio, non aver paura! Si chiama Bobby Hance! Ora ti ricordi, vero? Sai che faccio adesso? Il meccanico! In Fulton Street! Ah, brutto posto! E tu come te la passi, amico? Bene! Senti, credi di poterci trovare un po' di steppa, amico? Sai, mi andrebbe! Che cosa vuoi, amico? Dai, hai capito benissimo! Coraggio! Fallo per i vecchi ricordi di scuola, bello! Avanti! Va bene, aspetta un momento! Se mangiano la foglia, siamo fottuti! Se tu stai calmo, nessuno scoprirà niente! E poi siamo armati, no? Hai la pistola pronta? No! Benissimo! Allora, stai buono finché non vedi un po' di steppa! O magari qualcuno che tira fuori la pistola! Ma soprattutto sta calmo! Oh! Ehi, bello, ce l'hai la merce? Certo! Quante ne vuoi? Ce ne serve parecchie, amico! Quanto la fai? Cinque, la bustina! Tre! Cinque! Tre! Come sarebbe, amico? Pago in contanti, sai! Vieni, Carlos! Ehi, ehi! Come sarebbe, bello! Ti chiediamo un favore! Non ce lo vuoi fare? Va bene, peggio per te! Ma che gli prendi al tuo amico, Carlos? Ah, ma è un focovo io! Eh? Ma credi di essere l'unico al mondo che spaccia quella roba? Eh? Ti potremmo dare un sacco di lavoro! Guarda che dice per scherzo! Forza, tu hai dieci bustine, noi abbiamo 50 dollari!